A distanza di 15 giorni dal sequestro del Delfico comincia a delinearsi il quadro della riorganizzazione dei 1200 studenti che frequentavano l'istituto di Piazza Dante. Intanto oggi la provincia tramite i suoi legali ha depositato il ricorso in Cassazione contro il sequestro preventivo del Delfico disposto dal Tribunale, eseguito lo scorso 3 ottobre. Sulla riorganizzazione il presidente dell'ente dei via Miglia ha ufficializzato il via libera ai lavori di adeguamento del Delfico arrivato dal commissario per la ricostruzione post-sisma Guido Castelli. Il nulla osta dell'intervento da oltre 20 milioni di euro è stato comunicato alla provincia che aveva inoltrato alla struttura commissariale la documentazione relativa ai lavori previsti già da tempo, dopo lo sgombero del complesso che ospita convitto il liceo. Intanto pare cosa fatta la scelta delle sedi per i 1200 studenti sfrattati. L'acquisto dell'ex CED Tercas sarebbe un passo, mentre per i MUSP la zona individuata è quella vicina all'area camper all'ingresso della gammarana. Abbiamo definito di acquisire l'area nella zona all'uscita di Teramo Est, in prossimità dell'area camper, sulla quale installare un sito, un MUSP, un modulo provvisorio per ospitare i convittori. E parallelamente, quindi allo stesso tempo, stiamo acquisendo e proponendo all'ex CED di prendere il CED della banca. Il CED è un sito sul quale dovremo fare degli importanti lavori, ma che potranno comunque ospitare 40 classi per circa 3200 metri quadrati. Non solo il CED, ma anche la zona di Piazza Garibaldi è tenuta in considerazione, perché è una zona centrale e darà la possibilità di costruire, attraverso moduli provvisori, un'altra scuola. Nella riorganizzazione generale, l'installazione dei MUSP saranno essenziali per rispondere alle esigenze dovute alla riqualificazione di molte scuole nei prossimi anni. I moduli provvisori che sembrano oggi finalizzati all'emergenza delfico, ma in realtà sono moduli che serviranno nel prossimo decennio a realizzare i lavori su tutte le scuole superiori. Ricordiamo che tutte le scuole superiori di questa città saranno interessate ai lavori, compreso il polo scolastico in via San Marino, che conterrà nel prossimo futuro 5 istituti. Le tempistiche però non saranno brevi. Se il CED verrà confermato, come c'è stato anticipato telefonicamente, a settembre andranno tutti lì. Se il CED non ci sarà, oltre ai moduli provvisori da installare per i convittori, metteremo immediatamente, e quindi questo sarà fatto a gennaio, massimo febbraio, i moduli anche per le classi nella zona d'Alessandro e in quella a San Gabriele.